Musica Sei riuscito a vederla? Abbiamo preso un'altra spia del sultano a ficcare il naso in giro. Una donna stavolta, travestita da puttana di Quart'Ordine. Ora manda le donne del suo harem, eh? Pare che il vecchio sia rimasto a corto di guerrieri. Dove l'avete portata? Dentro, nelle prigioni. Non resisterà molto, non finché comanda Shakulu. Grazie. 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 Quanto ci vorrà prima che i miei soldati sappiano usare quei fucili? Almeno qualche settimana. Ormai i giannizzeri sapranno che li abbiamo traditi. Ma dispongono delle risorse per vendicarsi? Ne dubito. La battaglia del sultano contro Selim prende gran parte delle loro attenzioni. Che diavolo è questo tanfo? Perdonate, Emanuele. Alcuni di questi prigionieri ottomani sono così... ...ragili. Shakulu, cercate di contenere l'ira. So che il sultano ha umiliato la vostra gente. Ma non c'è alcun bisogno di sputare sui nostri sottoposti. Tu prendi la donna dalla prigione e portala nella cappella. Shakulu, non ho la chiave. Trovala! Chi ce l'ha la chiave? Tu? Credo che ce l'abbia Nicholas. È il permesso al mercato. Per la miseria! Vorrei passare quell'uomo a fil di spada! È il percorso! Santissimo cielo! Sì, è il permesso al mercato. 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 Coraggio, fate loro vedere chi ha ragione. Ma signor, perché non lo so? Oh, padre, davvero? Oh, padre. Oh, padre. Dio? Ma che cos'è? Non tutti sono stati fatti prigionieri. Poveretti. Che Dio vi accolga. È stato quel turco rinnegato. Shakulu. Io lo ammazzo. Fermi. Ferma. Ferma. Grazie a tutti.